In un luogo dove tutto è sempre e solo ghiaccio e neve e neve e ghiaccio, un giorno accade qualcosa di insolito, qualcosa di piccolo e giallo. Sarà l'inizio di una gigantesca catastrofe. Tre piccoli pinguini alla ricerca del senso della vita e dell'esistenza di Dio. L'Arca parte alle 8 di Ulri Hub, per i lettori di tutte le età.